Uno schianto che ha semidistrutto due auto, ma che per fortuna non ha provocato gravi conseguenze per i due conducenti, illesi. È accaduto verso le 17 sulla regionale Rovigo-Lendinara, poco dopo il cavalcavia dell'autostrada per quanti arrivano da Rovigo. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della polizia locale, con in appoggio il personale dei carabinieri, mentre i vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e agevolare i soccorsi del personale del SWAM 118.